Buonasera a tutti, vi diamo il benvenuto alla terza maratona webinar di Associazione Mercurio in cui affronteremo il tema educare al futuro attraverso la voce dei protagonisti della scuola, della cultura e della formazione. Questo webinar parla di cura, parità di genere e di sconfinamenti pedagogici, di quello che è chiamata fare il sistema educante per aiutare i giovani a crescere non solo in termini di competenze didattiche ma anche motive e relazionali per imparare a diventare persone più libere e consapevoli, cittadini e cittadine del domani. Quando abbiamo ideato i contenuti del webinar la guerra era uno scenario impensabile, ciò che sta accadendo in Ucraina sta gettando nello sgomento il mondo intero, con forti ripercussioni su bambini e bambine, ragazze e ragazzi. In una condizione di continua emergenza, dove vengono minacciati il senso di protezione e di sicurezza, si fa davvero fatica a volgere lo sguardo con fiducia al futuro, poiché non si riesce a dare senso al presente. Nonostante tutto, pensiamo che confrontarsi su parole ricche di significato come cura, empatia, collaborazione, comunità, resilienza, consapevolezza, passione sia un esercizio importante per continuare a immaginare e costruire futuro, speranza, libertà, democrazia. Oggi inizieremo con una riflessione sul tema della cura nelle relazioni, nella scuola e nella formazione dei giovani, trattando i possibili strumenti di cui dovrebbe dotarsi il sistema educante, per prendersi cura del benessere emotivo dei bambini e dei ragazzi e delle chiavi per ripensare le dinamiche delle relazioni in un mondo in continuo cambiamento e privo di certezze. La giornata di domani sarà dedicata a un confronto sugli stereotipi di genere che attraversano il mondo della scuola e rallentano la possibilità di accompagnare i giovani alla cittadinanza consapevole, inclusiva, responsabile che, auspichiamo, possa sorgere nel prossimo futuro. Concluderemo la nostra maratona mercoledì 9 marzo con il tema scuola senza confini, attraverso una riflessione su come immaginare la scuola del futuro, sia per quanto riguarda la didattica, sia in relazione agli spazi dedicati all'educazione, sia al ruolo degli insegnanti, in merito al metodo di formazione e agli approcci pedagogici. Insieme ai nostri ospiti Mercuglio vuole rimettere al centro del dibattito la scuola e il suo ruolo nell'educazione dei giovani al fine di accompagnarli a diventare attivi creatori del loro futuro. Iniziamo con il tema di oggi, la scuola come cura, criticità e risorse dell'apprendimento per le nuove generazioni. Il tema del benessere emotivo dei bambini e dei ragazzi è diventato prioritario in questi tempi incerti, vulnerabili, sospesi. Dopo il lockdown e con la chiusura e intermittenza delle scuole negli ultimi due anni, l'emergenza pedagogica educativa in Italia è fortemente peggiorata, causando danni psicologici e relazionali in tutte le fasce dell'età evolutiva. L'indagine Bambini Lockdown, un anno dopo, dalla Resilienza alla Resistenza, condotta dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, ha confermato nel 2021 una situazione di estremo disagio e un significativo aumento delle paure nei bambini, evidenziando l'importanza di attuare interventi finalizzati a contribuire a un rinnovato benessere collettivo. Pensate, il 63% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di aver modificato la propria alimentazione e di avere difficoltà a prendere sonno. I dati raccolti da Telefono Azzurro mostrano un aumento del più 121% delle telefonate per tentativi di suicidio e di più 84% richieste di aiuto per gesti autolesivi. Oggi si aggiunge il dramma della guerra in Ucraina e il bombardamento televisivo e mediatico che investe bambini e ragazzi, con il rischio di lasciarli ancora una volta soli a gestire psicologicamente ed emotivamente lo tsunami di una nuova emergenza globale e la sensazione di trovarsi sempre sotto assedio e minaccia. Vi riporto le parole di Maria Montessori. Tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per la competizione e la competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro solidarietà, quel giorno si starà educando alla pace. In questo contesto, imparare e sarare una relazione empatica di ascolto, reciprocità, cura tra gli attori del processo educativo, alunni, studenti, insegnanti, bambini e bambini, ragazze e ragazze, genitori, territorio e comunità, diventa un fattore di priorità nella pratica educativa, nel processo didattico. Per parlare di relazioni terapeutiche capaci di nutrire il potenziale di sviluppo cognitivo e anche emotivo dei bambini e dei ragazzi, abbiamo invitato la dottoressa Maddalena Castelletti, specializzata in neuroscienze cognitive e psicologia sperimentale. Maddalena è esperta di strategie di supporto all'apprendimento e di disturbi del neurosviluppo e si occupa di capire come aiutare bambini e ragazze in difficoltà da neuropsicologa e terapeuta. Maddalena ha coordinato il primo sportello di supporto sugli effetti psicologici del covid, servizio su base volontaristica che ha fatto da prepista e che poi è stato fatto proprio dall'Ordine Nazionale degli Psicologi e dalla Protezione Civile su Scala Nazionale. Benvenuta Maddalena, grazie di aver accettato l'invito a partecipare al nostro webinar. Grazie a voi, molto lieta di essere qui stasera. Volevo iniziare chiedendole quanto sia importante nel suo lavoro di neuropsicologa un approccio all'apprendimento capace di nutrire il potenziale di sviluppo dei bambini e dei ragazzi e quali azioni secondo lei occorre mettere in atto affinché le relazioni tra cui appunto l'apprendimento siano un processo dinamico e trasformativo capace di integrare la nostra dimensione cognitiva a quella emozionale e affettiva. Allora ovviamente è un aspetto importantissimo per non dire fondamentale del modo in cui si sceglie di educare le generazioni future. Ruben Feuerstein diceva che l'apprendimento è il frutto dell'osservazione di una medaglia trasparente, lui utilizzava questa metafora, dove una faccia della medaglia è la condizione, l'altra faccia è l'emozione. Noi non possiamo guardare nessuna delle due facce della medaglia senza intravedere l'altra, almeno un pochino e così dovrebbe essere attuato qualunque processo di apprendimento da quello più strettamente scolastico, didattico, ma anche l'apprendimento che esce dai confini della scuola perché i nostri bambini e i ragazzi in fin dei conti devono imparare a vivere, oltre che a leggere, scrivere e contare. Questo sembra una questione ovvia, forse scontata, ma non è detto che lo sia così tanto. La ricerca neuroscientifica, che è ciò di cui io mi occupo negli anni più recenti, diciamo nell'ultima decina di anni, ha messo a punto anche, ha affinato quella che è la teoria della mente, cioè è la capacità tipicamente umana che ogni individuo ha di riconoscere che gli stati mentali altrui possano differire non soltanto dai propri stati mentali, ma addirittura differire dallo stato di realtà. E questa teoria della mente autonomo, come viene definita in letteratura, è stata ulteriormente suddivisa tra una sua componente più prettamente cognitiva e una sua componente invece più di pertinenza dell'ambito emotivo. E la ricerca ci dice che è sufficiente un deficit in una di queste due componenti per andare ad inficiare non soltanto l'altra componente, ma anche uno sviluppo armonico, un neurosviluppo o uno sviluppo umano, che poi di fatto sono la stessa cosa, di un individuo, per cui cognitivo ed emotivo non possono essere separati se non in modo didascalico forzato. Noi come specie umana abbiamo bisogno di mettere delle etichette, però in realtà non sempre questo è efficace. Addirittura le aree cerebrali della corteccia prefrontale dorsolaterale, che sono quelle coinvolte nella teoria della mente, quindi in questo capire l'altro e capire anche se stessi, sono coinvolte anche nell'apprendimento, nei processi di apprendimento che vengono chiamati cold, ovvero freddi, come appunto possono essere alcune nozioni scolastiche. Quello che la scuola può fare già in tramoegna è potenziare quella che viene chiamata la metacognizione, cioè una riflessione attiva che lo studente fa su come pensa e come impara, quindi metacognizione e metapprendimento. Dedicare dei momenti formativi su questo tema, più che non sulla cognizione in senso stretto e sull'apprendimento in senso stretto. Ovviamente tutte le attività che vengono svolte nelle scuole e che si configurano come intervento psicologico, psicoeducativo di tipo primario sono fondamentali. Ricordo il più brevemente possibile che l'intervento primario è quello di tipo preventivo che viene attuato a tappeto su tutta la popolazione, l'intervento secondario è quello rivolto alla popolazione a rischio e l'intervento terziario è quello di cui mi occupo io, cioè in ambito clinico è accogliere individui che già manifestano un disturbo che può essere psichico o psicoorganico o anche solo organico, di questo se ne occupano i miei colleghi dell'area medica. Per cui educare in modo appunto trasformativo, integrando il cognitivo e l'affettivo è assolutamente fondamentale e questi ultimi mesi, anni in realtà sono passati già quasi due anni e mezzo, eh ce l'hanno prepotentemente ricordato. Grazie Maddalena. Eh vorrei ora insieme a lei portare l'attenzione su una forte criticità che sembra pervadere la vita di bambini e adolescenti. Dalla scuola alle attività ricreative e sportive si assiste a una a una esasperazione della competitività e delle richieste di prestazione con la conseguenza che nei bambini e nei ragazzi si è radicata la sensazione che si possa emergere e dare un senso a quello che si fa solo nella qualità di vincenti. Chi non ce la fa si isola o viene marginato con il rischio di ritiro sociale o di reagire con comportamenti violenti, a volte anche autolesionistici o azioni di bullismo. Pensate che a Milano negli ultimi mesi sono tredici le baby gang di dodici diciassettenni che imperversano in città. Da un'indagine promossa da Fondazione Sole Terre, dall'unità di ricerca sul trama dell'Università Cattolica di Milano emerge che nella fascia adolescenziale la qualità della vita in questi due anni è fortemente peggiorata. Il 40,7% degli adolescenti ha difficoltà a dare un senso a ciò che prova. Il 34% dichiara di non essere in grado di controllare il proprio comportamento. Il 50% si arrabbia con se stesso. Il 64% ritiene che se non fosse accaduta la pandemia oggi sarebbe una persona diversa. Il 17,3% pensa che sarebbe morire o di volersi fare del male. Come spiega questo malessere così diffuso nel mondo dei ragazzi, questo burnout da ansia e stress che colpisce sempre più studenti in sempre più precoci fasce di età? Perché secondo lei i nostri ragazzi si sentono di stare così male? È una domanda complessa a cui rispondere. Io ci provo partendo dal latino che ho studiato tanti anni a scuola e a volte non ne capivo esattamente il senso, ora però torna e parto da un termine che è il termine cattivo, che potrebbe forse un po' riassumere un cattivo studente, un cattivo ragazzo, pensando anche all'aggressività o comunque alla non adeguatezza. E penso che questo termine deriva appunto da captivus che etimologicamente significa prigioniero o intrappola, anche ostaggio è una delle accezioni. Questi ragazzi sono stati per un lunghissimo tempo intrappolati e hanno sperimentato la condizione di isolamento sociale che è diversa dal concetto di solitudine perché se la solitudine ha a che fare con il vissuto ed è più un tema intrapsichico, cioè ci si può sentire soli pur non essendo isolati, beh l'isolamento sociale invece è un fattore, un fatto oggettivo e in questo tempo con le misure restrittive pur necessarie però i ragazzi sono stati quelli più isolati socialmente, i ragazzi e i bambini in età scolare, sono stati anche molto stigmatizzati come pure avvenuto per la popolazione anziana, non è questo il focus però è indicativo che l'età estreme della vita, quindi i bambini e gli anziani siano stati additati come colpevoli di qualcosa, no? O come un tori o come incomodo o fardello dove li mettiamo questi bambini dobbiamo andare a lavorare e gli anziani un po' alla stessa cosa, per cui effettivamente sono stati prigionieri ostaggio. Oltre a questo hanno sperimentato una condizione neurologica particolare, cioè questi mesi di continuo allarme e di continua paura, giustificatissimi però comunque molto forti, sempre sopra soglia, hanno portato le persone e i ragazzi che hanno un sistema nervoso un po' più immaturo rispetto agli adulti, pensiamo che le funzioni per esempio della corteccia prefrontale arrivano a completa maturazione soltanto verso i 18 anni di età per la popolazione femminile e intorno ai 20 per quella maschile, quindi c'è un po' di verità in alcune dicerie sul fatto che gli uomini maturano più lentamente, al di là delle battute effettivamente il nostro sistema nervoso termina la maturazione molto avanti con il nostro processo educativo e umano. Quando siamo attivati sotto stress, spaventati, attiviamo prevalentemente quella componente del sistema nervoso che viene chiamata simpatica, quindi quella che si prepara, anche qui l'etimologia greca, no, all'azione e va ad innescare quei meccanismi di tipo combatti o scappa, fight or flight, che dovrebbero prepararci a fronteggiare un pericolo con tutta una serie di attivazioni non soltanto fisiologiche per cui l'aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, l'aumento dell'ossigenazione alla periferia, agli arti che ci servono per combattere o per scappare ma anche con tutto un correlato neuroendocrino sul quale non mi dilungo che però prepara l'organismo e anche il cervello all'azione combatti o scappa. Però se poi questi ragazzi sono rimasti isolati socialmente, confinati nelle loro camere, ovviamente ehm eh il sistema nervoso nella sua componente simpatica non ha avuto la possibilità di eh dare una via d'uscita a tutta quella serie di attivazioni per le quali si era preparata. Allora se qualcosa non può eh trovare una via verso l'interno, l'acting out direbbero i miei colleghi psicanalisti, allora si rivolgerà sicuramente contro l'interno e quindi queste reazioni di attacco o fuga saranno autorivolte. E questa è purtroppo una una spiegazione ehm aderente alla realtà di quello che è successo. Grazie mille Maddalena per averci illustrato con grande chiarezza alcune criticità che stanno attraversando la vita di tantissimi ragazzi eh in fase adolescenziale ma poi vedremo anche con l'intervento di Marina Lauricella capire anche meglio come lo stanno affrontando i bambini in questo periodo. ehm adesso do con grande piacere il benvenuto in questo dialogo sul tema della cura al nostro secondo ospite Valeria Cantoni Mamiani, filosofa, saggista, consulente culturale, formatrice. È docente all'Università Cattolica e presidente cofondatrice di Arts Forum e di attrice di Leading by Heart, un metodo formativo che sviluppa uno stile di leadership inclusiva ed empatica. Valeria nel tuo bellissimo libro Leadership di cura dal controllo alle relazioni edito da vita e pensiero indichi come si possa oggi praticare una leadership attenta, presente, coinvolgente e in ascolto dei bisogni delle persone. prendersi cura delle persone e lasciare spazio alla loro autonomia è quello che ospichiamo possa realizzarsi anche all'interno del sistema educante. così duramente messa alla prova da decenni di criticità sistemiche eh oggi fortemente esasperati da questi due anni di pandemia. hai parlato di ferita della scuola e della società con effetti importanti sul benessere dei ragazzi. quanto questo rischia di avere conseguenze sul loro percorso formativo? allora giustamente innanzitutto buonasera a tutti grazie dell'invito e sono anch'io sono molto contenta di essere qua di aver ascoltato anche Maddalena che conosco da un po' di anni e che stimo molto. ehm dunque giustamente tu prima di iniziare questo incontro hai detto vabbè ma rispetto a quando ci siamo sentiti per impostare questo incontro sono cambiate di nuovo tante cose e quel meccanismo di attacca o fuggi adesso è proprio molto forte no? in tutti noi. per cui mi viene da dire che quella dinamica del che prima c'era prima del covid del gli adulti sanno e i giovani i ragazzi imparano no? che era un po' la cultura in cui noi siamo nati quell'approccio così eh che è anche configurato dalla dalla dal dal modo in cui le aule sono sono progettate no? con la con la cattedra un po' più alta e quelli che devono imparare stanno sotto eh cioè tutta una rappresentazione della gerarchia no? del del dell'apprendimento che insomma è molto interessante ma quella roba lì ehm ha avuto un momento di sospensione in questi due anni per non parlare di quello che sta succedendo in questi giorni e cioè ci siamo trovati noi e loro no? Come se fossero no no? Due due formazioni diverse di di una squadra noi e loro a apprendere insieme qualche cosa che non sapevamo ehm perché sia la pandemia sia adesso questa questa guerra ci ha colti impreparati per cui mi viene da dire la primo il primo passo è accettare tutti insieme che c'è una ferita e che questa ferita cambia le vite di tutti che non possiamo immaginare che i ragazzi giovani bambini insomma mh possano andare avanti come se nulla fosse accaduto perché è più importante la loro il diciamo la loro carriera nella mente nostri genitori insegnanti carriera scolastica o carriera professionale che non il percorso e le l'esperienza che loro stanno e hanno fatto insieme a noi per cui questo essere insieme in un contesto in cui tutti eravamo impreparati non solo loro comporta due fattori uno è che noi dobbiamo noi adulti diciamo dobbiamo imparare a sostenere la frustrazione di non avere risposte di fronte alle loro domande e e dobbiamo accettare il dolore di non avere risposte di fronte alle loro domande. e negoziare con questo per cui fare un gran lavoro dentro di noi seconda cosa è quella di imparare noi e loro dentro a questa situazione a questa barca in mezzo alla tempesta in cui ci troviamo a comprendere molto bene quelli che sono i nostri bisogni i nostri per bisogni io intendo non mangiare bere e bisogni primari ma quelli che sono quelli che io chiamo anche nel libro i bisogni spirituali i bisogni immateriali come il bisogno di libertà il bisogno di ascolto il bisogno di riconoscimento sono bisogni che attraversano diciamo il genere umano e che sono difficilissimi da ehm da trovare da scovare sono difficilissimi anche da nominare perché non siamo abituati prima Maddalena parlava no dell'educazione il mettere insieme il cognitivo e l'emotivo e per per noi questo 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 questa è una grande sfida cioè veramente tenere insieme l'emotivo e il cognitivo e per tenere insieme l'emotivo e il cognitivo un buon modo è imparare a nominare le emozioni imparare a nominare i bisogni cioè dare un nome a quello che noi proviamo e e aiutare insegnare trasmettere ai bambini questa sapienza che noi non abbiamo per cui anche lì è ancora più difficile la faccenda dobbiamo trasferire ai bambini una sapienza che noi non possediamo per cui mi viene da dire dobbiamo spicciarci veramente spicciarci ad apprendere questo tipo di conoscenza e cioè una capacità eh linguistica eh di nominare quello che noi eh noi proviamo e quello che noi proviamo deriva da dei bisogni che sono stati corrisposti o meno io a un certo punto nel libro c'è un capitolo che si chiama fare archeologia di desideri ecco cioè fare archeologia di desideri vuol dire andare proprio come degli archeologi a scavare per cercare di capire ma quali sono i nostri i miei bisogni in questo momento e dunque e anche aiutare i bambini a capire ma di che cosa hai bisogno in questo momento senza vergognarsi no hai bisogno di libertà hai bisogno di essere ascoltato per esempio ieri ho ho chiacchierato con una venticinquenne che era veramente molto arrabbiata da quello che sta succedendo ma una rabbia era arrabbiata frustrata triste era proprio arrabbiata con tutti diceva questo è uno schifo totale e in quel momento ovviamente io mi sono resa conto che non potevo entrare in dialettica con lei perché in quel momento lì lei aveva bisogno che io l'ascoltassi l'ho capito dopo un po' all'inizio ho provato a dire ma no vabbè ma noi possiamo aiutare cioè no entrare in una dimensione dialettica ma invece aveva bisogno di essere ascoltata ed è qualche cosa che a noi manca questa capacità di ascolto nei confronti dei più piccoli e dei più giovani e credo che un pochino manchi anche ai professionisti della scuola questa capacità di mettersi in ascolto e non avere sempre una risposta pronta ma costruire creare una risposta con loro insieme a loro questo forse porterebbe anche a una maggiore eh autonomizzazione della della dei ragazzi cioè renderli anche emotivamente più autonomi e porterebbe come dire a un nuovo patto anche a un nuovo accordo che si può fare tra eh persone che sono molto ancora in cammino in un cammino di apprendimento e persone che sono anche loro in cammino in un cammino di apprendimento ma qualche modo qualche cosa di più la sanno perché hanno vissuto di più perché hanno studiato di più e perché hanno quel ruolo lì di insegnare per cui come dire mh concepire una minor gerarchia cioè una una diversa gerarchia e in questo periodo veramente eh non avere delle risposte pronte perché le risposte pronte in realtà poi non le abbiamo non inventarsele perché poi comunque i bambini ai ragazzi ci scoprono ci mettono a nudo e cercare di trovare con loro qualche piccola risposta a piccoli problemi a micro problemi che via 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 si possono affrontare insieme grazie Valeria sei andata oltre e volevo farti anche una seconda domanda la quale in parte hai già hai hai già risposto nel tuo libro tu definisci l'intelligenza emotiva come la capacità di comprendere gestire ed esprimere in modo efficace i propri sentimenti i propri bisogni interpretare quelli delle altre persone volevo chiederti quanto è importante oggi saper ridefinire la grammatica delle relazioni nelle organizzazioni generali e in particolare nella scuola e quale ruolo possono avere le emozioni per risanare gli effetti che la pandemia o la drammaticità anche degli eventi relativi a una guerra lascia in tutti noi come hai detto adulti bambini ragazzi che ci mette di fronte all'esperienza della complessità e della vulnerabilità di cui tu parli tantissimo nel tuo libro come se fosse quasi uno sfondo che deve diventare primario e deve essere posto alla ribalta proprio per riuscire a costruire quel processo anche di apprendimento di cui tu hai accennato prima che non abbia delle risposte già precostituite che vengono dal mondo degli adulti ma che è un cammino che si fa insieme adulto bambino ragazzo adulti tra di loro cioè un cammino comune sì allora io la vulnerabilità l'ho portata così diciamo l'ho scremata da tutti gli altri elementi perché è qualche cosa che è appartenuta al genere umano da sempre ma diciamo che negli ultimi due anni non ci siamo accorti che siamo di essere vulnerabili ma la logica eh in qualche modo la cultura dominante eh della forza eh della appunto che mette mette forza debolezza una contro l'altra successo e insuccesso no alcune cose che dicevi prima debolezza forza eh fallimento o eh successo tutte queste dicotomie eh sono quelle che hanno governato la nostra cultura la governano ancora perché lo vediamo abbiamo vediamo sotto gli occhi però in fondo questa dimensione della vulnerabilità ci ha colto alla sprovvista perché ci siamo resi conto che basta un niente e noi ehm non solo possiamo scomparire ma il nostro corpo può essere affetto proprio no può essere eh conquistato da eh da qualcosa che non vediamo e può essere trasformato no può essere si può ammalare cose che c'erano anche prima però adesso è rimasto eh stato evidente ora questa dimensione della vulnerabilità eh è importantissima perché in fondo ehm raramente si è fatta una riflessione su quanto la vulnerabilità ci permette invece di essere trasformativi cioè in fondo la vulnerabilità è quella condizione dell'esistenza di tutti gli esseri esistenti che hanno una vita di potersi trasformare cioè di togliere di rinunciare a delle cose di fare morire no delle cellule se vuoi di fare morire delle parti di eh di accettare il lutto di alcune parti e di trasformarsi e queste parti possono essere anche i pensieri i valori no le idee no si cambia tutti noi cambiamo per cui eh lavorare sulla vulnerabilità sia in campo diciamo organizzativo sia tra gli adulti che con i bambini è importante per questo perché lì si educa al cambiamento lì si educa ad accettare il fatto che quello che pensi oggi magari non era quello che pensavi ieri eh c'è un bellissimo libro di Bion che era un psicanalista che racconta tutti i personaggi come è come un grande una grande spettacolo una messa in scena una pièce teatrale in cui ogni personaggio è lui ha vent'anni lui ha otto lui ha quindici lui ha trenta e ha e il lettore fa molta fatica a seguirlo perché non c'è coerenza c'è una totale incoerenza tra questo quello che queste persone si dicono ma è sempre lui a realtà diversa questa mancanza di coerenza in realtà è quello che ci permette di trasformarci di imparare di innovare di eh di andare avanti ecco per cui questa dimensione della vulnerabilità secondo me è importante per questo ora come si collega questo elemento col tema delle emozioni si collega per il fatto che ehm imparare a nominare le emozioni cioè per cui imparare anche a nominare le nostre paure quello che ci fa sentire fragili quello che ci fa sentire appunto che rischiamo di perdere dei pezzi di noi imparare a capire che le emozioni diciamo tra virgolette negative eh fanno parte della nostra vita tutti i giorni ma nominandole per cui inserendo una dimensione un po' più logica il logo nel linguaggio nominandole noi in qualche modo ne abbassiamo un po' di più il portato distruttivo diciamo no siamo un po' meno in preda eh dunque alla paura alla alla rabbia all'odio alla gelosia no tutte quelle cose che noi abbiamo sempre che hanno anche molto i bambini per cui parlando tanto eh parlando disegnando perché poi ci sono il linguaggio fatto di parole ma anche di disegni danzando no la rabbia si può danzare eh si può disegnare si può nominare ci sono tanti modi però tirando fuori e danno una forma ok a questo a queste emozioni diventano un qualche qualche cosa di un pochino più gestibili e la vulnerabilità diventa un qualche cosa a nostro favore invece che un come dire una condizione di pura e semplice fragilità pura e semplice eh condizione che ci mette che ci ha in cui ci sentiamo perennemente a rischio ok di eh di tutto di vita di crescita eh di carriera eh di di salute per cui trasformare diciamo la fragili la sentimento della fragilità in una vulnerabilità che è trasformativa attraverso la la mettere forma alle nostre emozioni credo che in questo momento sia molto utile io questo di solito lo faccio con i manager porto questo tipo di di discorso eh con nelle nelle organizzazioni nelle aziende però anche la scuola è un'organizzazione e i conflitti per esempio che si creano all'interno degli adulti nella scuola sono come dire noti e e sicuramente non fanno bene alla scuola il nome della coerenza e il nome della fermezza grazie Valeria ti ringrazio tantissimo tra l'altro ci hai portati a a al tema che che vorrei che vorrei affrontare ora con il nostro testo terzo ospite di questa serata Marina Lauricella laureata in conservazione dei beni culturali con seguito il master CLIL presso l'università Capo Oscari esperta in lingua all'education e coordinatrice del progetto Erasmus Plus ehm Marina è maestra nella scuola primaria e con lei vorrei proprio introdurre il tema della salute della scuola oggi della salute dei bambini dei ragazzi degli insegnanti in questo periodo di chiusura intermittenza dovuto allogorante trascinarsi della pandemia ehm il tema della deprivazione educativa cognitiva emotiva e relazionale dei bambini già nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della scuola primaria sta assumendo dimensioni emergenziali questa situazione colpisce soprattutto i minori in situazione di fragilità o in condizione di svantaggio socio economico o culturale tuttavia oggi occorre per tutti ripensare alla funzione stessa dell'insegnamento affinché sia davvero un aiuto e una spinta all'autonomia alla crescita diventa quindi sempre più importante instaurare una relazione empatica tra alunni e studenti alunni e professori alunni e docenti e ripristinare le condizioni emotive necessarie all'apprendimento dando spazio all'ascolto al recupero delle relazioni alla manutenzione del gruppo classe sembra proprio che la priorità in questo momento sia la cura e il benessere dei bambini e dei ragazzi l'associazione mercurio ha risposto a questo bisogno con i progetti colori delle emozioni un workshop creativo per la scuola primaria alla scoperta della consapevolezza emotiva un progetto per portare alla luce il mondo interiore dei bambini abbiamo concepito questo percorso come un'occasione per superare i ruoli comunemente attribuiti a insegnanti e studenti e offrire nuovi strumenti attraverso cui si costruisce la relazione tra loro abbiamo cercato di proporre una pedagogia alternativa con l'obiettivo di restituire alla scuola una valenza terapeutica e trasformativa e di riportare nelle classe il piacere della condivisione che sembra andato perduto durante questi due anni buonasera marina salve a tutti grazie dell'invito volevo chiederti come stai vivendo questo periodo come così complesso quanta criticità stanno vivendo le scuole primarie tra didattica mista quarantene rientro paura del contagio oggi angoscia per la guerra e che cosa si può fare per aiutare i bambini ma anche voi insegnanti ad affrontare questa costante incertezza diciamo che questi tre anni legata all'emergenza pandemica hanno rappresentato per tutti noi un periodo difficile dal punto di vista sia personale che sociale e hanno influenzato le abitudini di noi tutti la scuola è un'organizzazione complessa e questa è la pandemia ha diciamo ehm rappresentato nell'elemento catalizzatore e ci sono state delle delle fasi in cui eh abbiamo vissuto questa crisi in maniera molto profonda la crisi però rappresenta anche un'opportunità una sfida da raccogliere per migliorare la scuola e cambiarla eh noi ci siamo trovati all'improvviso ad affrontare la pandemia sapete benissimo che tre anni fa la scuola ha attraversato una fase di lockdown totale fino a giugno da febbraio a giugno e quindi sono emerse quelle antinomie legate a una didattica in presenza una didattica a distanza che cosa ha comportato per noi innanzitutto è stato essenziale far sì che l'alleanza tra scuola e famiglia fosse veramente implementata e noi quindi per noi è stato necessario affiancare concretamente i genitori nella condivisione eh di questa metodologia didattica per molti aspetti nuova e diversa in ogni caso e quindi li abbiamo dovuti coinvolgere nei percorsi educativi finalizzati a garantire la la continuità educativa e didattica la relazione e la cura era un'alleanza che ci ha permesso di ottenere dei risultati soprattutto perché il nodo etico che è emerso nella fase del lockdown era quello di superare un'altra antinomia l'antinomia tra inclusione ed esclusione garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio favorire che tutti avessero gli strumenti per collegarsi perché da quello che non avere questi strumenti significava essere esclusi perdere quel diritto essenziale che il diritto all'educazione quando poi siamo ritornati l'anno successivo nella didattica in presenza i bambini hanno trovato una scuola diversa una scuola dove tutte le pareti erano prive dei loro elaborati creativi al loro posto erano subentrati dei poster dei poster con i nuovi protocolli di sicurezza quindi anche in questo caso abbiamo dovuto affrontare un nuovo cambiamento nell'azione educativa e didattica io ho sentito in particolare la necessità di sostenere accompagnare gli alunni dal punto di vista psicologico offrendo loro la possibilità di rielaborare riflettere sulle esperienze vissute l'anno prima nella fase del lockdown mi sono chiesta cosa provano i bambini che cosa hanno provato quali sono stati i loro sentimenti le paure le emozioni riguardo a questa situazione esterna che è piovuta all'improvviso su su tutti noi e come l'esperienza del covid di questo virus invisibile abbia potuto interferire sull'esperienza emotiva dei bambini in relazione a se stessi agli altri genitori e compagni alcuni bambini si mostravano chiusi in se stessi e quindi è stato necessario all'inizio dell'anno scolastico cercare di creare un clima sereno far vivere loro in una condizione di benessere riscrivere insieme le nuove regole che cercando di condividerle di comprenderle soprattutto cambiare il setting didattico cercando di creare degli spazi diversi per favorire l'ascolto l'interazione e dare modo a tutti di condividere il racconto di quei giorni difficili sententosi uniti all'interno della classe insieme ai compagni ai loro insegnanti ai genitori devo dire che tutti gli insegnanti naturalmente hanno si sono trovati in una in una condizione di forte carico emotivo con alti livelli di stress e anche il personale docente dovrebbe essere supportato dal rischio di burnout e da stress da lavoro correlato favorento il benessere nel setting scolastico sia sotto il profilo relazionale e della condivisione sia dal punto di vista sta della del setting organizzativo vero e proprio perché noi abbiamo dovuto applicare anche dei protocolli di sicurezza a volte in contraddizione tra loro soprattutto quest'anno è stato ancora un anno diverso infatti il futuro si contraddice però si contraddistingue proprio per questa mutevolezza improvvisa e quindi in maniera flessibile abbiamo dovuto adattare la nostra azione educativa alla did quindi ci siamo trovati con alcune classi in quarantena altri bambini che questa volta eh nella terza fase soprattutto quest'anno i bambini che erano stati preservati molti insegnanti si erano contagiati nella prima fase ma quest'anno soprattutto l'elemento più fragile è stato rappresentato da bambini perché all'inizio sembrava che il virus non li attaccasse invece quest'anno abbiamo avuto tantissimi casi faccio un esempio noi siamo sta nella ripresa dopo le vacanze natalizie nella nostra scuola eh molte classi erano in dad e siamo rimasti solo in cinque classi e quindi c'era una scuola surreale eh dove gli spazi le classi corridoi erano vuoti non si sentivano le il chiasso e i rumori ci mancavano c'era un silenzio assordante in un certo senso per usare eh un termine particolare eh quindi loro si è sentita la loro fragilità nello stesso tempo noi abbiamo dovuto supportarli infondendo in loro la speranza per un cambiamento la speranza nel vaccino e loro sono stati molto coraggiosi perché raccontavano che quando avevano fissato l'appuntamento per il vaccino e il vaccino per loro ha rappresentato un'arma di protezione che li ha rassicurati perché anche questa antinomia legata alla sicurezza all'incertezza alla fragilità alla vulnerabilità quindi abbiamo parlato proprio di questo ogni giorno ognuno di loro raccontava la propria esperienza la pandemia poi a livello sociale eh ha messo in luce le fragilità anche all'interno dei nuclei familiari abbiamo avuto molti casi di famiglie che si sono separate proprio in questo periodo e quindi questo ha aggravato anche a livello psicologico la reazione dei bambini perché ha rappresentato un forte carico emotivo per alcuni legato alla pandemia e quindi ci sono stati pure dei contrasti all'interno del nucleo familiare sulla corretta decisione da prendere in merito alla vaccinazione ci sono quindi tanti problemi a cui ci sono tante posizioni diverse che bisogna rispettare quindi i bambini devono imparare anche a ad accettare le decisioni degli adulti quando le riguardano ma nello stesso tempo bisogna loro dare voce quindi i bambini hanno espresso il loro parere in merito alla vaccinazione hanno raccontato che a volte all'interno dello stesso nucleo familiari i genitori avevano opinioni diverse loro erano al centro a volte di questi conflitti interfamiliari quindi è una situazione ricca di complessità che bisogna affrontare da punti di vista e da prospettive diverse ma soprattutto bisogna che noi adulti impariamo ad ascoltare il punto di vista dei bambini a dare loro uno spazio per parlare ed esprimere i loro bisogni le loro emozioni i loro desideri e continuare ad aiutarli a sognare e a supportarli in ogni momento in questo in questo percorso particolare grazie marina abbiamo parlato di consapevolezza emotiva e dell'importanza di riuscire ad esprimere le emozioni con le parole ma anche con altre forme di espressione per riuscire a dare forma alle paure alle emozioni troppo forti anche attraverso l'arte e la creatività volevo chiederti nella tua esperienza di insegnante quanto importante linguaggio creativo per consentire ai più piccoli di esprimere bisogni ed emozioni e come stai affrontando con loro un tema così difficile come quello della guerra che sta attraversando l'esistenza di tutti ci puoi raccontare come stanno vivendo i bambini questa nuova situazione di emergenza per rispondere alla prima domanda il linguaggio creativo ha presentato sempre per me un forte stimolo è un potente strumento di comunicazione e attraverso il linguaggio creativo che bambini comunicano il loro ricco mondo interiore e in modo libero avvicinandosi in modo semplice diretto e a scoprire le emozioni a comunicarle agli altri i bambini soprattutto quando sono piccoli non trovano le parole per esprimere i loro sentimenti le loro emozioni e quindi bisogna aprire loro un ventaglio di possibilità un ventaglio di linguaggi che vanno dal linguaggio musicale a quello iconografico a quello cinestetico a quel alla scrittura creativa tutti i linguaggi possibili un ambio ventaglio in modo tale che loro trovino il linguaggio adatto a loro per esprimere questo mondo e a comunicarlo agli altri perché una delle difficoltà maggiori che a volte loro non trovano le parole implementare il lessico ogni giorno legare una parola un'immagine far sì che loro acquisiscano le parole per esprimere comunicare agli altri cosa provano cosa sentono è essenziale e proprio bisogna ogni giorno costruire questo lessico il lessico delle emozioni implementare l'intelligenza emotiva diciamo che dopo questi stiamo uscendo dal covid c'era questo sentimento anche di speranza in tutti noi che si era riacceso una luce in fondo al tunnel e purtroppo il futuro è in rapida evoluzione noi dobbiamo educare i bambini al futuro adesso c'è la guerra in classe ne parliamo io ho due bambini un bambino russo e un bambino ucraino oggi ognuno di loro esprimava la loro posizione naturalmente loro sono liberi in classe di esprimerle perché noi viviamo in Italia che è un paese democratico e quindi ognuno di loro può parlare a favore o contro un paese coinvolto nel conflitto e l'altro anche se a noi noi possiamo rimanere perplessi e interrogarci sul fatto di quanto un bambino così piccolo può essere plagiato dagli adulti questo è quello che mi ha fatto soffrire maggiormente oggi mi sono chiesta ma tutto quello che facciamo cioè può darsi che non ha il valore che ho la speranza che noi avevamo di aver trasmesso determinati valori quanto un genitore adulto può influire sul pensiero del bambino e allora io mi sono chiesta che non mi sono detta che proprio in questo momento è necessario parlare con loro io oggi ho parlato con tutta la classe perché loro sono molto coinvolti io ho dei bambini che vanno in quinta e sono quasi degli esperti di geopolitica e sono molto interessati a tutto quello che sta succedendo abbiamo parlato di quello che significa la guerra del fatto che noi dovremmo essere in classe dei costruttori di pace perché ogni giorno abbiamo succedono dei conflitti delle contrapposizioni perché ci sono idee diverse a volte nella vita di tutti i giorni anche giocando qualcuno rispetta le regole quindi nella vita in classe ogni giorno ci sono dei conflitti che emergono e allora abbiamo pensato che questo è l'ultimo anno loro sono in quinta che passeranno insieme sono gli ultimi giorni e quindi anche ognuno nel proprio piccolo può fare un passo in una direzione per creare il benessere all'interno della scuola e quindi essere costruttori di pace il valore della pace il fatto di la violenza la rabbia la gestione delle emozioni lo sviluppo e l'empatia sono tutti quegli strumenti che noi dobbiamo mettere in atto attraverso metodologie diverse come il cooperative learning creando i gruppi di lavoro lavorando a dei progetti che eh si basano sull'interazione dei bambini all'interno di un gruppo questo può aiutare tutti e quindi noi parliamo e diamo a tutti la possibilità di di parlare di quello che sta succedendo perché questo è un momento abbastanza cruciale in cui si assistono a delle scene che nessuno avrebbe immaginato e abbiamo parlato anche del fatto che la libertà è una conquista che a volte richiede Marina non ti sentiamo più non so se è un mio problema Olga no no è bloccata la sua connessione ne approfitto per chiedervi ehm Maddalena Castelletti ecco Marina sei tornata ehm ti lascio concludere perché era andata via dicendo che la libertà è comunque una conquista che a volte purtroppo mh occorre difendere credo di aver interpretato sì sì grazie Marina per insomma così il racconto che ci hai fatto all'interno no della delle del mondo della scuola mh del contatto diretto quotidiano che hai con i bambini mh siccome ehm tra pochissimo ci devono lasciare sia Maddalena Castelletti che eh Valeria Cantoni eh se avete delle domande ehm noi se le potete scrivere in chat ehm su loro intervento richieste di approfondimento intanto volevo ricordare a tutti di leggere il bellissimo libro di Valeria Leadership di Cura perché ehm al di là appunto della del tema principale che sono appunto la cura nelle relazioni nelle grandi organizzazioni offre tantissimi spunti e tantissime riflessioni anche sulle relazioni personali private eh nella mh quotidiane quindi consiglio davvero a tutti di di leggerlo eh lo trovate mh è edito da Vita Pensiero lo trovate facilmente sia in libreria che insomma insomma mh online mh saluto quindi ringrazio sia Valeria Cantoni che Maddalena Castelletti sicuramente ci saranno altri altre occasioni di confronto grazie davvero perché il vostro punto di vista è stato molto interessante e sarebbe bello potere continuare una un dialogo appunto che vada più a fondo su tanti temi che avete sollevato grazie anche a te Marina poi ci sarà sicuramente occasione di mh ritornare anche approfondire con te alcuni eh temi che hai di cui hai parlato mh nel tuo intervento e vorrei ora introdurre eh Vincenzo Walsh ciao Valeria responsabile area progetti di fondazione Mission Bambini eh un professionista del terzo settore da oltre quindici anni con una esperienza diretta nella pianificazione gestione di progetti nelle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado Vincenzo vorrei contare tornare un attimo sul tema del modello di scuola che noi abbiamo che ancora un modello ottocentesco basato mh sulla gerarchizzazione l'efficienza e la standardizzazione ovviamente poi con tutte le eccezioni Marina Lauricella è una di queste è un modello dove ehm chi si adegua ha successo chi non si adegua fallisce come secondo te si può ripensare l'insegnamento perché possa riflettere interpretare le caratteristiche i bisogni e la complessità del nostro tempo e ah scusami eh e come ehm eh la scuola ehm possa diventare un luogo mh capace di dare senso a chi lo abita ehm e se effettivamente esiste eh secondo te un dualismo tra didattica ed ed educazione. Allora buonasera a tutti e grazie per eh avermi invitato è stato anche piacevole sentire l'intervento di tutti ho preso anche nota sicuramente interessanti eh oggi abbiamo iniziato il nostro incontro un po' parlando di guerra quindi prima di rispondere alla domanda volevo fare questa riflessione nel senso che ci siamo detti diciamo a partecipanti chiusi che probabilmente adesso è più sentito questa emergenza piuttosto che l'emergenza scuola o l'emergenza ritorno a scuola col covid poi in realtà quello che emerge le guerre o comunque quelle che sono anche le varie discriminazioni fanno parte anche del mondo scuola e fanno parte di quel dovere dell'insegnante ma io credo di noi adulti noi genitori di della comunità educante come viene spesso definita di trasferire a queste bambini eh dei valori ehm e delle eh dei principi etici che effettivamente gli permettono quasi di resettare quella di una società che qualche volta tentenna migliorare. Eh tutto ciò premesso eh nel momento in cui parliamo di scuola ecco io mi soffermerei eh nel fare una riflessione su un percorso scolastico che arriva fino diciamo al termine della terza media perché scuola dell'obbligo definendo anche quello che poi nell'obbligo del dovere anche statale dovrebbe essere il percorso che offriamo ai nostri bambini e mi piace pensare che l'obiettivo della scuola deve essere quello di creare dei cittadini cittadini attivi dove per cittadini attivi si intende degli individui che siano capaci di partecipare alla vita sociale politica ed economica della comunità di riferimento ma soprattutto che la stessa comunità di riferimento in un rapporto eh di eh reciprocità riconosca l'importanza degli individui di partecipare. Eh per quanto riguarda appunto l'aggiungimento di questi obiettivi come tu ben dicevi che diciamo all'interno della tua domanda alla scuola viene dato un duplice mandato no? Che è un mandato sicuramente primo legato all'aspetto didattico che è legato come sappiamo anche alla stessa situazione della scuola. Per didattica sappiamo che si intende il trasferimento di tutte quelle competenze eh di discipline specifiche quindi i bambini dobbiamo imparare a scrivere, dobbiamo imparare a leggere, dobbiamo imparare la geografia, la storia e quant'altro. Però non di ultima diciamo innovazione è anche l'affidare al corpo docente, al corpo insegnante il compito, il mandato educativo che poi in termini di mandato del MIUR significa sviluppare quelle che sono conosciute come competenze trasversali o maggiormente note come soft skills che sono tutte quelle competenze soggettive come appunto la resilienza, la responsabilità, l'autodicipina, competenze sociali come la capacità comunicativa, la comunicità di collaborazione o metodologiche come il problem solving o semplicemente la resistenza allo stesso che permettono ovviamente ai bambini di poter interagire anche in un'altra modalità con quella che ovviamente la società quello circonda. È ovvio che la scuola si deve muovere all'interno di questo duplice mandato, dove il primo mandato didattico risulta essere il mandato più oneroso per gli insegnanti. Però anche per quello che poi hanno detto le persone che mi hanno preceduto c'è un concetto fondamentale che secondo me è messo anche durante la pandemia, ovvero che poi è anche vero all'interno dell'ambito lavorativo, ovvero se una persona, se un bambino non sta bene, non apprende. Quindi come di conseguenza questo, diciamo, mandato duplice che viene affidato alle scuole risulta essere in realtà molto sinergico e come contrariamente come ricevi tu forse in una scuola di tipo docentesco, attualmente l'aspetto educativo diventa funzionale rispetto all'aspetto didattico. E questo poi è particolarmente vero perché come noi, parlo voi di associazione Mercurio, non di contazione di vincere bambini, lavora non in scuole che sono, diciamo, in contesti che possiamo definire di normalità, ma in scuole che lavorano in contesti che generalmente vengono definiti in contesti periferici, dove tendenzialmente si parla di contrasto alla povertà educativa, ovvero dove ci troviamo di fronte a scuole che lavorano ovviamente in ambiti editoriali dove c'è mancanza di servizi per le famiglie, mancanza di servizi per i bambini e dove le stesse scuole rappresentano i luoghi di ripartenza, ma dove i stessi insegnanti a cui viene affidato questo compito, la gestione di case complesse diventa sicuramente una sfida molto complicata e difficile. il microfono accendere il microfono ora vorrei parlare di futuro e di progettazione nel mondo della scuola ma in generale nel mondo più allargato del sistema educante a tuo avviso quali sono gli strumenti di cui dovrebbe dotarsi il sistema educante per prendersi cura dell'istruzione, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione dei giovani quali competenze o figure secondo te mancano oggi nella scuola per progettare il futuro? ok io parto un po' dalle premesse cioè il fatto che all'insegnante, al corpo decente venga affidato il compito di educare e di insegnare anche se però poi il termine insegnare significa tracciare nella mente comprende sia quel passaggio l'acquisizione di competenze art che poi di competenze soft io credo che prima di rispondere a questa domanda dovremmo andare ad analizzare non solo quale figure si necessita ma anche per quanto tempo e in che modalità nel senso che se noi consideriamo il mandato il duplice mandato che viene affidato agli insegnanti io credo che questo duplice mandato vada calato rispetto a quelle che sono le sfide che devono affrontare questi insegnanti io facevo prima riferimento alle scuole più difficili le scuole di periferia, le scuole che sono soggette al fenomeno della segregazione scolastica per cui ci sono scuole di serie A e scuole di serie B e immaginiamo un insegnante che deve affrontare sia la parte educativa che la parte didattica in una classe composta da 20 bambini in cui tendenzialmente sono tutti bambini che provengono da contesti fragili e sono tutti bambini dove l'insegnante anziché lavorare probabilmente con un approccio di classe e quindi anche un approccio educativo di classe avrebbe, diciamo, necessità di lavorare invece su un approccio educativo individuale proprio perché ciascun bambino avrebbe bisogno di un percorso specifico quindi il primo punto da affrontare su questo è la complessità di questa sfida che viene affidata agli insegnanti il secondo elemento riguarda, diciamo, il turnover noi sappiamo benissimo che le scuole sono soggette a un continuo riciclo di insegnanti in particolare le scuole di periferie che sono insegnanti che cambiano una volta all'anno e ci sono alcuni casi in cui gli insegnanti cambiano per più anni e dobbiamo domandarci quanto rispetto ai bambini rispetto anche alle famiglie la difficoltà di avere una delle figure stabili di riferimento e anche l'incapacità di seguire quelle che possano essere progettazioni che partono da un tempo con zero e finiscono, diciamo, a fine anno possano essere messe nelle mani di più persone quindi di più insegnanti il terzo che veniva anche poi accennato dai colleghi che hanno parlato prima è il tema del burnout quanto gli insegnanti rispetto alla mancanza di strumenti classe complesse e anche mandato complesso appunto quello didattico ed educativo siano in grado ovviamente di essere sempre psicologicamente pronte ad affrontare queste sfide tutto ciò premesso rispondo ecco alla tua domanda quali sono le figure da, diciamo, professionista del terzo settore mi verrebbe da dire che le scuole sono piene di figure importanti al proprio interno perché accanto a quel mandato didattico il percorso educativo che deve essere offerto ai ragazzi deve prevedere diverse figure quindi sappiamo tutti benissimo che ci sono sportelli di orientamento psicologico ci sono azioni dopo scuola ci sono attività multidisciplinari quindi tutta una serie di figure tra educatore, psicologi, pedagogisti mediatori culturali che intervengono all'interno delle scuole il tema che ho sollevato era per quanto tempo molto spesso chi inserisce queste figure sono entri del terzo settore che hanno molto spesso diciamo finanziamenti che prevedono dei tempi di scadenza quindi di conseguenza quando vengono inserite queste figure hanno sempre dei tempi molto limitati e quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre è per quanto tempo queste persone e queste figure professionali devono essere considerate presenti all'interno della scuola affinché un lavoro educativo e didattico con gli insegnanti possa rendere gli insegnanti stessi autonome e se possono essere autonome nel perseguire lo comandato il secondo tema invece che io sollevavo è in che modo poi queste risorse e queste figure professionali devono essere messe insieme tra loro nel senso che nelle scuole per chi ci lavora sa benissimo che c'è una priorità di offerta quindi quando si entra nelle scuole ci sono tantissime attività da quelle esportive a quelle teatrali a quelle artistiche però molto spesso accade almeno da mia esperienza che quando poi si parla con i dirigenti e con i referenti scolastici tutti questi progetti che lavorano con gli stessi bambini con le stesse famiglie probabilmente con gli stessi insegnanti tendenzialmente non comunicano fra loro e questo è un altro punto di debolezza in che modo noi dobbiamo agire dobbiamo far sì come entri del terzo settore ma anche come scuole ma anche come istituzioni pubbliche affinché gli interventi delle scuole non solo siano sinergici non frammentari e collaborativi fra loro ma che soprattutto a mio parere devono essere capaci di costruire intorno con gli insegnanti il primo elemento non per le scuole con le scuole quindi in termini di coprogettazione dei interventi circolari intorno ai bambini e ovviamente sempre considerando l'importanza delle famiglie grazie sì certamente questo scenario è uno scenario che impatta anche fortemente su agli enti del terzo settore che entrano e lavorano con le scuole perché il tema del tempo e della manutenzione di un percorso che funziona che ha funzionato si scontra poi con l'esigenza di poterlo come dire replicare su annualità sufficienti affinché il processo venga sedimentato e quindi diventi davvero una risorsa per la scuola spesso e volentieri dopo una barra tre quando si è fortunatissime annualità il progetto in qualche modo si disperde non riesce ad avere una vita più lunga nello stesso contesto in cui potrebbe invece mettere radici solide e far mettere a frutto appunto davvero una un un modello un accompagnamento che poi possa davvero fare la differenza per i bambini o i ragazzi al quale si rivolge questo forse dovrebbe essere argomento di discussione su un tavolo più allargato diverso che possa coinvolgere anche gli enti finanziatori e le logiche con cui vengono anche in qualche modo costruiti bandi gli stessi bandi con cui molto spesso nella grande maggioranza dei casi consentono al terzo settore poi di entrare nella scuola prima di concludere questa chiacchierata volevo darvi alcuni numeri che riportano in qualche modo in evidenza una forte emergenza educativa economica e sociale in cui si trovano i giovani in Italia oggi il 30% dei giovani non intende l'italiano narrativo e non è neppure in grado di scrivere correttamente una mail per acquistare un prodotto commerciale il nostro paese è ancora penultimo in Europa appena prima della Romania come numero di laureati i pochi laureati scelgono percorsi con bassa occupazione e l'Italia è in coda anche per i giovani laureati nelle discipline STEM che sono le più ricercate nel mondo del lavoro i dati Eurostat evidenziano come il passaggio dall'istruzione al lavoro rimanga difficile abbiamo una disoccupazione giovanili pari al 37% rispetto a una media europea del 16,9 il fallimento formativo ed educativo coinvolge un milione e trecentomila bambini e ragazzi in povertà assoluta e due milioni e trecentomila in povertà relativa il tema dell'eguaglianza si fa sempre più urgente dato l'enorme disparità di accesso all'istruzione ed esito nel sistema scolastico che aprono nuove fratture nel paese sia a livello sociale sia territoriale da anni la politica non investe investe troppo poco nel mondo dell'istruzione e della formazione che cosa può fare a tuo avviso il terzo settore per aiutare a ridurre questo divario così drammatico e per sostenere un cambiamento rispetto allo scenario attuale la domanda è complessa quindi rispondere in maniera più semplice possibile tendenzialmente il diciamo partirei dalla relazione che c'è come dicevi una domanda fra politica e terzo settore e soprattutto lo concentrei sul concetto di welfare io dico sempre che io dico cioè tendenzialmente i trend dicono che c'è un rapporto inversamente proporzionale fra welfare state e terzo settore ovvero tanto più anzi tanto meno la politica investe all'interno dell'assistenza pubblica quindi che può essere istruzione che può essere formazione che può essere lavoro tanto più aumentano gli interventi dell'organizzazione del terzo settore quindi tendenzialmente il terzo settore ha avuto storicamente ad oggi un ruolo fondamentale ovvero va a intervenire laddove lo Stato la mano dello Stato non interviene più e intercetta dei bisogni che tendenzialmente rimarrebbero inespressi nel caso in cui non ci fosse il terzo settore quanto la politica poi e il mondo delle istituzioni dia un'importanza strategica al terzo settore ecco secondo me è di strada ne abbiamo ancora tanta da percorrere e questo vale sia per quanto riguarda la percezione del terzo settore da parte del mondo politico sia per quanto riguarda poi anche la capacità a mio parere del terzo settore di potersi muovere più in sinergia quindi anche riuscire a creare delle alleanze più strutturate per quanto riguarda diciamo il livello di percezione politica io siamo tutti le sue soggetti della riforma del terzo settore quindi siamo tutti e stiamo cambiando modalità di rendicontazione di creazione dei nostri bilanci di pubblicazione e quant'altro e mi sembrano tutti sicuramente gli interventi molto interessanti ma nel fare vari articoli che poi sono presenti diciamo nella riforma del terzo settore ce n'è uno che in particolar modo mi ha colpito ovviamente ha colpito molti di noi e che fa intendere un attimino qual è anche la percezione forse a volte politica che sia del terzo settore mi riferisco a quello che sono detetti se non mi sbaglio dell'articolo 10 della riforma del terzo settore detetti massimi stabiliti sui salari una riforma più che corretta nel senso bisogna impedire assolutamente sono d'accordo che ci siano persone che si arricchiscano tramite le donazioni che vengono date dai vari donatori che siano privati che siano aziende e quant'altro però d'altro canto è stato stabilito un tetto così basso rispetto poi a dei contratti collettivi di riferimento che denota due cose la prima che all'interno del terzo settore le figure che ci lavorano non sono riconosciute come figure come dei professionisti come delle persone che hanno delle competenze che hanno delle lauree che hanno dei master e quindi viene ancora riconosciuto al terzo settore un livello salariale quasi amatoriale rispetto a quello che effettivamente sono le forze delle professionalità che vengono messe in campo il secondo livello che mi fa mi fa riflettere anche che con questa riforma cosa succede che lo stesso terzo settore non potrà più essere concorrenziale nel mercato del lavoro cioè se io organizzazione avessi bisogno di un professionista capace di cambiare la vita di un bambino di dialogare efficacemente con le scuole di fare avvocasi o quant'altro mi dovrei tra virgolette scusatemi il termine arrangiare con quello che io posso effettivamente alcuni soldi che ho a disposizione per assumere questo questo è ovvio che denota quasi una percezione secondo me totalmente errata di quello che è il mondo del terzo settore che non significa arricchirsi ma non significa neanche limitare il terzo settore ad essere diciamo un tappabuchi considerando appunto il livello di l'esempio che faceva appunto di copertura dello stato assistenziale da parte del terzo settore per quanto riguarda invece cosa deve fare il terzo settore io credo che il terzo settore si stia già muovendo abbastanza bene rispetto a attività di lobby attività anche di avvocasi nei confronti sia del pubblico che del diciamo del privato quello che penso però è che ci sia ancora qualcosa da poter modificare io quando ho cominciato a lavorare nel terzo settore mi ricordo che si utilizzava il termine di competitor quindi un'organizzazione che opera nella sociale è un competitor di un'altra organizzazione e il mio dubbio era ma se la missione è la stessa se tutti quanti crediamo in un futuro diverso se tutti quanti vogliamo aiutare i bambini non dovrebbe esserci il termine competitor ma dovremmo essere tutti quanti di collaboratori ecco questo secondo me è uno dei tasselli che forse dovremmo affrontare come terzo settore dovremmo un po' staccarci dalle logiche dei progettifici e quindi di scrivere progetti per vincere bandi e coperture di costi fissi bisognerà perdere forse anche la tendenza a contendersi le varie aziende i vari donatori per finalizzare dei progetti che probabilmente hanno gli stessi obiettivi e vogliono aggiungere gli stessi risultati forse dovrebbero essere in grado di creare sì dei consorsi delle cordate che però al di là delle logiche economiche forse dovrebbero concentrarsi un po' di più sulle logiche delle mission e delle vision che poi costituiscono ciascuna organizzazione io dico sempre che forse un passaggio che è stato fatto in alcuni casi ma che ancora fosse acerbo potrebbe essere quello di abbandonare la logica ad esempio della raccolta fondi dell'organizzazione e forse incominciare a muoversi in ambito di cordate che lavorano su progetti che hanno una validità nella creazione forse anche di comitati di raccolta fondi che lavorano sui progetti e non lavorano sull'organizzazione questi sono uno dei tanti pensieri che ho poi il tema come dicevo Matilde è un tema molto complesso quindi non facilmente affrontabile sicuramente poi ci sono persone che questo lo massicano come il pane quotidiano il mio pane quotidiano è quello dei progetti però ecco credo che sono questi alcuni elementi su cui forse fermarci a riflettere grazie Vincenzo sicuramente sono anche spunti che sarebbe bello portare anche a un tavolo delle istituzioni penso al comune di Milano penso anche alle fondazioni che poi erogano i i finanziamenti che consentono la stragrande maggioranza poi di fare degli interventi volevo lasciare questi minuti che ci rimangono a uno spazio di discussione se avete delle domande se avete voglia appunto di esprimere anche la vostra esperienza no in in questo campo volevo chiedere a costanza Milvio se ha voglia di fare un piccolo come dire di girare un attimo le fila e magari anticipare quello di cui parleremo nei prossimi giorni intanto volevo ringraziare tutti i relatori perché penso che abbiano dato una serie di stimoli veramente ricchi in un ultimo vincenzo aperto penso un capitolo per cui potremmo fare un altro webinar parlando di terzo settore senza dubbio mi spiace che Maddalena e Valeria non ci siano comunque io le ringrazio perché penso che sia molto importante poi prendersi del tempo per condividere esperienze e portare sul tavolo insomma alcuni temi mi leggo giusto a questi ultimi insomma interventi che in un certo senso anticipano in qualche modo quello che affronteremo domani e nella giornata di dopodomani e che di nuovo guardano la scuola come un sistema che deve essere non più considerato diciamo chiuso nei suoi confini ma come un organismo che opera all'interno di un sistema più grande con cui può comunicare di questo sistema poi fanno parte anche il terzo settore e le famiglie insomma tutta una serie di elementi che orbitano intorno il mercoledì in realtà ripartiremo un po' da questo cercheremo di come dire amplificare di guardare la scuola da diversi punti di vista cercheremo di capire come la scuola può interagire sempre di più con l'ecosistema esterno e sarà molto interessante perché parleremo proprio di spazi anche educativi coinvolgendo degli architetti che si occupano di costruzione di spazi educativi cercando di creare una commissione anche di discipline diverse in modo tale che si parli di spazio educativo ma come qualcosa che possa abilitare poi tutti quei processi che ne fanno parte quindi l'idea sarà un po' quella di guardare la scuola non solo nelle sue strutture ma anche in tutti i processi che che ne derivano e un'altra cosa che volevo invece sottolineare effettivamente mi non lo so mi mi apre tutta una serie forse anche di nervi come dire di ferite aperte rispetto al mondo del lavoro rispetto al mondo dell'educazione alle competenze a come queste vengono valorizzate e mi viene da pensare che effettivamente in un diciamo dove le competenze dove alle competenze non viene riconosciuto il giusto valore mi chiedo quale potrebbe essere il ruolo percepito rispetto ai luoghi che sono deputati a diciamo formarci rispetto a queste competenze quindi il mondo del lavoro oggi non riconosce soprattutto Vincenzo faceva riferimento rispetto al terzo settore non viene riconosciuto il valore di tutta una serie di competenze e questo mi riporta immediatamente anche qui alla scuola e al ruolo che può avere invece nel ridimensionare e nel restituire l'importanza alle competenze che ci creiamo da quando siamo insomma da quando entriamo nella scuola da quando usciamo da quando poi ci continuiamo a formare all'interno del mondo del lavoro quindi secondo me era un punto su cui riflettere in modo particolare e sono d'accordo che il terzo settore oggi abbia bisogno sempre di più di 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 tutta una serie di elementi che oggi sono purtroppo sono tipici sono tipicamente diciamo elementi di organizzazione del mondo profit in cui si parla di competenze organizzazione progetti strategie ma sono cose che nel quotidiano esistono nel terzo settore e hanno bisogno di essere potenziate sempre di più quindi sarebbe giusto rendere competitivo il terzo settore rispetto a a tutti questi elementi di Mathilde Costanza grazie mille grazie mille di interventi volevo dire solo due cose parlando con dei servizi stavamo cercando stagista delle scuole di business school internazionale di alto livello comunque i giovani ragazzi adesso considerano stanno considerando il terzo settore come comunque un luogo di felicità e e scelgono il terzo settore a prescindere su dell'alternative dove i stipendi sono più alti dunque penso che ci sia un cambiamento generazionale molto importante su questo su questo lato volevo solo tornare su un punto che sarebbe interessante da aggiungere in una prossima riflessione e la valutazione alla scuola dentro la scuola delle competenze dei ragazzi perché ovviamente se il miura ha introdotto anche questo compito all'insegnante delle soft skills mi chiedo come andranno a valutare queste competenze e perché sarebbe sicuramente per alcuni ragazzi un'opportunità ma ci chiederà chiederà anche all'insegnante un nuovo compito molto complesso non solo di formare i ragazzi a queste soft skills ma in più a valutarli dunque torniamo al punto che competenze nuovi aggiungiamo alla scuola competenze di coaching di psicologi non lo so ancora è un dibattito tutto aperto dunque sicuramente sarà interessante in un prossimo webinar un prossimo incontro affrontare questi temi certamente se magari Marina da insegnante tu come stai vivendo questa questo nuovo decreto legge rispetto alle competenze trasversali devo dire che io ho fatto delle scelte mediotodologiche didattiche prima che venissero approvate determinate indicazioni da parte del ministero mi ricordo che proprio all'inizio ho fatto un corso coordinato con l'USR con alcuni psicologi che era proprio sullo sviluppo trasversale delle competenze life skill è un corso che è durato tre anni e purtroppo non ha avuto nessuna prosecuzione perché era impegnativo noi facevamo dei seminari con gli psicologi e facevamo dei laboratori attivi in cui noi sperimentavamo dei laboratori e poi li potevamo utilizzare nelle classi e lo sviluppo delle competenze è essenziale e su questo secondo me bisogna lavorare perché la scuola non deve trasmettere in una società in rapida evoluzione le nozioni non è questo il compito della scuola e degli insegnanti ma è proprio sviluppare il pensiero critico l'autonomia la fiducia stessi la resistenza rispetto allo stress la capacità di lavorare insieme del problem solving del cooperative learning e apprendere tutte queste competenze essenziali per la vita accanto a questo secondo me io ho visitato diverse scuole europee dalla Finlandia alla Spagna all'Inghilterra e la progettazione lo sviluppo delle competenze deve essere proprio al centro del nostro progetto educativo e didattico senza questo sviluppo la scuola non ha senso perché le nozioni adesso sono facilmente reperibili in maniera diversa e più veloce su internet quello che invece è essenziale adesso è sviluppare un pensiero critico per aiutare i bambini a selezionare le fonti delle informazioni a ripensare in maniera critica tutto quello che viene comunicato attraverso i mass media autorizzare gli strumenti multimediali implementando le competenze ma in maniera responsabile io lavoro da vent'anni collaboro con il municipio uno la cittadinanza attiva rendere i bambini responsabili io lo faccio con i consigli di zona in cui i bambini possono partecipare attivamente alle sedute del municipio uno e proporre dei progetti concreti per il loro municipio per la loro zona quindi i bambini devono diventare protagonisti attivi sin dall'inizio secondo me l'azione educativa di ogni insegnante deve favorire il un lavoro sinergico con i genitori le famiglie ma anche il contesto sociale in cui la scuola opera e la collaborazione con il terzo settore con i con gli psicologi essenziale per l'apertura della scuola verso l'esterno verso il contesto territoriale in cui gravita la scuola ma anche a livello internazionale secondo me bisogna aprire la scuola in una dimensione europea e internazionale perché adesso i bambini vivranno in un mondo globale devono conoscere e apprendere diverse lingue per comprendere anche culture diverse e quindi bisogna avere una visione e una mission diversa grazie Marina questo io ho la fortuna di conoscerti da ormai dieci anni perché ho avuto la fortuna di avere Marina come docente insegnante con materie diverse per tutti e due i miei figli ritengo che attraverso un approccio con una visione meno legata alle nozioni tu hai saputo però trasmettere anche forti competenze nelle materie cioè attraverso un approccio appunto aperto che ha consentito anche ai bambini di sperimentare con il progetto del consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze ma mi ricordo anche la profondità con cui hai trasmesso attraverso progetti sperimentali sulla poesia sull'arte sulla scienza hai fatto radicare competenze che sono competenze di tipo didattico no e quanto sia importante forse nella scuola poter come dire che la scuola diventi permeabile al mondo esterno e anche però forse un appello al mondo esterno di occuparsi della scuola perché noi lo facciamo perché siamo operatori del terzo settore ma la scuola è misconosciuta quasi forse anche dagli stessi genitori dalle stesse famiglie in molti casi ci dovrebbe essere molta più permeabilità molto più scambio molto più più dialogo perché nessuno si interessa della scuola se non gli attori che ne fanno parte questo dispiace c'è voluta una pandemia globale per accendere riflettori su delle criticità ma anche su delle risorse no che la scuola può e deve tuttora avere nell'educazione nella formazione dei giovani la scuola ha una diffusione capillare credo che sia l'organizzazione che con maggiore capillarità sede e sedi e forza lavoro in in Italia e come si può dire anche partecipazione adesso non conosco i numeri complessivi degli studenti nelle scuole di ogni ordine grado ma comunque dovrebbe essere molto più valutata valorizzata ascoltata anche da chi non ne fa parte avete qualche domanda qualche spunto da porre sul tavolo oppure ci salutiamo vi diamo appuntamento alla giornata di domani che si occuperà di stereotipi e di parità di genere e ringraziamo tutti gli ospiti e tutti voi partecipanti per avere preso parte a questa nostra chiacchierata grazie a tutti arrivederci grazie a tutti